Parliamo di LinkedIn e quindi come avere un po' successo nella propria carriera grazie a questo social. Prima di iniziare volevo presentarmi brevemente. Io sono una HR Business Partner, vivo in Spagna, qui lavoro in una multinazionale e il mio lavoro proprio consiste in due cose. Da una parte gestire lo sviluppo delle persone dell'area di mia competenza, quindi nella parte di sviluppo professionale, formazione e tutto il loro percorso aziendale e dall'altra appoggio il business nella sua strategia. Faccio questo lavoro ormai da quasi cinque anni e devo dire che me ne sono subito molto appassionata tant'è che ho deciso di iniziarne a parlare anche sui social dove condivido suggerimenti, consigli su come affrontare, diciamo, diverse situazioni sul mondo del lavoro. Ne parlo su Instagram, ne parlo su TikTok e anche su LinkedIn. E devo dire che da quando ho iniziato ad essere attiva anche proprio su LinkedIn ho potuto creare un network molto interessante sia con professionisti del mio settore che con persone di altri settori. e usando proprio LinkedIn in questo modo sono anche riuscita a ricevere proposte e collaborazioni che poi mi hanno aiutata nel mio percorso lavorativo. Detto ciò, di cosa parleremo oggi? Vedremo inizialmente un po' che cos'è LinkedIn poi parleremo di come potenziare il nostro profilo una volta potenziato come facciamo a far crescere la nostra rete professionale, il nostro network poi come farci notare non solo dai recruiter ma anche da altri professionisti ed infine parleremo di una cosa che è il Social Selling Index il perché potrebbe essere interessante monitorarlo. Vi lascio delle breve note anche se le abbiamo un po' già dette prima vi chiedo di disattivare il microfono se non ancora l'avete fatto per evitare magari i rumori in sottofondo se volete accendete la telecamera perché già che parliamo di networking tanto ben venga insomma a vederci anche in faccia e poi ci sarà uno spazio di domande anche che però lasceremo alla fine del webinar Detto ciò, se intanto vi vengono in mente domande mentre parlo le potete tranquillamente scrivere in chat e le raccoglieremo per rispondere alla fine del webinar Benissimo, direi che possiamo iniziare ad addentrarci nel webinar in sé Allora, che cos'è LinkedIn? LinkedIn è un social media, ok? E per saperlo usare al meglio bisogna anche capire un po' quali sono le sue potenzialità che vedremo un po' tutt'oggi Allora, dicevamo LinkedIn è un social network che sembra scontata come cosa però mi sono resa conto che in verità non lo è questo perché? Perché la maggior parte delle persone usa LinkedIn principalmente come piattaforma per trovare lavoro ma non lo usa veramente come social e LinkedIn è un social quindi funziona con le logiche anche del social network abbiamo gli algoritmi e quindi l'algoritmo un po' come per Instagram per esempio come per TikTok premia diciamo le persone che seguono la logica del social ok? Quindi che sono più attive, che hanno più contatti, eccetera quindi oggi vedremo soprattutto come usare LinkedIn proprio come social network e non solo come una piattaforma per cercare lavoro Per farvi capire un po' le numeriche di cui parliamo LinkedIn ha 900 milioni di membri e 58 milioni di aziende pubblicano offerte su questo social in Italia sono circa 17 milioni i membri lo possiamo vedere qui e quindi capite che parliamo di numeriche enormi praticamente quasi tutte le aziende presenti almeno nel mondo pubblicano sia su LinkedIn che probabilmente su altri social e non so se sapevate che il 77% dei recruiter usa regolarmente LinkedIn quindi capite che parliamo di un numero elevatissimo quindi è super importante essere attivi su questo social tant'è che uno studio ha dimostrato che 122 milioni di persone hanno ottenuto un colloquio tramite LinkedIn e che 35 milioni sono state assunte da una persona con cui si erano collegate tramite questo social quindi qui proprio vediamo queste 35 milioni praticamente hanno trovato lavoro grazie al potere del networking ora che abbiamo visto un po' che cos'è LinkedIn vediamo come potenziare il nostro profilo LinkedIn prima di buttarci proprio nella parte di networking allora ci sono tre parti che dobbiamo tenere in considerazione da ottimizzare di più la prima parte è l'headline ora le vedremo tutte poi nello specifico poi abbiamo il summary e le parole chiave e le competenze queste diciamo sono tre cose molto importanti però ovviamente oltre a queste dovrete avere una foto professionale dovrete avere l'esperienza ben spiegata con le parole chiave giuste eccetera andiamo a vedere però questi tre punti un po' più nello specifico partiamo dall'headline l'headline è questa che vedete qui sotto il nome della persona ok in questo caso questa è la mia headline è uno degli elementi più importanti del profilo LinkedIn perché se ci fate caso è la prima cosa che le persone notano cioè quando leggete per esempio i post su LinkedIn sotto il nome c'è sempre una frasetta che è l'headline quindi proprio il primo impatto che abbiamo sugli altri cosa può includere questa headline può includere il ruolo ricoperto nel mio caso HR business partner il nome dell'azienda poi gli interessi professionali rewarding e riconoscimenti se fate caso al mio per esempio sono tutte parole chiave ok quindi molto molto piccole diciamo c'è chiarezza c'è sintesi ci sono parole chiave quindi io vi sconsiglio di usare frasi lunghe e articolate tipo ti aiuto a trovare nuovi clienti oppure sono un esperto in no meglio parole chiave e qua vi ho messo qualche esempio non so siete dei laureati quindi potreste scrivere laureato in X presso l'università X e quali sono un po' i vostri punti di forza quindi laureato in comunicazione barra università barra social media e advertising per esempio oppure project manager presso l'azienda X e poi le cose in cui siete specializzati per esempio energia rinnovabile poi team management se volete far vedere che gestite un team di lavoro e qua vi ho messo vari esempi non so se avete ricevuto dei riconoscimenti se siete LinkedIn Top Voices o altre cose le potete anche scrivere oltre a l'headline il summary è anche una cosa molto importante ti permette un po' di raccontare la tua storia professionale in maniera un po' in un modo un po' più vicino allo storytelling quindi non solo con frasi secche e parole chiave facciamo un esempio come lo possiamo fare intanto iniziamo con un'introduzione accattivante che significa introduzione accattivante dobbiamo diciamo nelle prime righe subito catturare un po' l'attenzione di chi ci legge quindi per esempio siamo dei project manager ok? quindi project manager con oltre tre anni di esperienza nella gestione efficace di progetti complessi per una casa farmaceutica e qui abbiamo già detto in due righe chi siamo dopodiché raccontiamo la nostra storia quindi sono specializzato nell'implementazione di processi di sviluppo e produzione ho guidato con successo team la mia expertise include gestione di progetti eccetera e dopodiché passiamo ai punti di forza e alle competenze quindi sono focalizzato sul miglioramento continuo con una capacità di identificare opportunità di ottimizzazione proattivo orientato ai risultati eccetera e poi le aspirazioni professionali sono sempre pronte ad accogliere nuove sfide in questo settore ed infine un invito all'azione quindi let's connect ora considerate che diciamo sul linkedin non c'è bisogno di usare tanta formalità ok ma si può essere anche un po' più informali quindi magari usando frasi tipo let's connect oppure usando uno storytelling un po' più vivace non magari super formale come si potrebbe usare sul curriculum ok o sulla lettera di presentazione perché queste due parti l'headline e il summary sono molto importanti perché l'algoritmo prende diciamo le parole chiave fa combinare le parole chiave delle offerte di lavoro che magari vengono pubblicate eccetera a quello che c'è su queste due cose ok quindi è importante averle bene allineati tra l'altro se volete scrivere in chat qual è la vostra headline per poterla commentare dopo insieme più che benvenuti ok una volta che abbiamo visto l'headline e la summary passiamo alle competenze sapevate che potete aggiungere fino a 100 competenze nel vostro linkedin 100 competenze sono tantissime il mio consiglio è di aggiungerle almeno tra le 30 e le 50 ok e abbiamo diversi modi per aggiornare le competenze allora sia nel reparto proprio nella sezione competenze e lì potete aggiungere tutte quelle che volete poi lo potete fare anche sotto ogni esperienza che questo è interessante perché voi scrivete le esperienze che avete e poi sotto ogni esperienza potete mettere quali sono state le competenze che avete più sviluppato e dopodiché le potete aggiungere sotto il profilo ok quindi ad esempio queste sono le mie competenze principali che ho messo quindi tipo risorse umane project manager strategic HR eccetera e perché sono importanti queste competenze perché come vedete per ogni offerta di lavoro sotto ogni offerta troverete quali sono le competenze che stanno cercando per quell'offerta quindi più hai competenze in linea con l'offerta che stai cercando più avrai possibilità di essere contattato ok e qui vi do un trucco cercate prendete una serie di offerte che vi interessano e analizzate sia le competenze sia le parole chiave che vengono più usate e dopodiché se effettivamente avete sia quelle parole che quelle competenze potete inserirle nel vostro LinkedIn in modo tale da avere molte più possibilità di essere trovati dagli algoritmi e dai recruiter eccetera benissimo quindi siamo arrivati al punto in cui abbiamo impostato il nostro LinkedIn quindi headline summary competenze poi abbiamo detto descrivere bene l'esperienza avere una foto professionale una foto di copertina anche e ora che abbiamo quindi ben impostato il nostro LinkedIn però abbiamo bisogno di trovare persone ok per far crescere la nostra rete professionale come facciamo diciamo che possiamo fare due azioni che come vedete sono molto correlate tra di loro da una parte potete trovare profili interessanti e di linea dovete trovare anzi profili interessanti e di linea con il vostro profilo e dall'altra parte dovete generare nuovi contatti vediamo come fare primo punto come trovare persone e contatti profili interessanti la prima cosa che uno fa di solito è collegarsi con i propri amici con i propri colleghi e basta e come primo passo va benissimo ovviamente è la cosa più comoda da fare quindi ottimo però poi l'importante è quello di collegarsi con persone che possono essere affini al nostro obiettivo professionale ok quindi se stiamo cercando per non so lavoriamo nella comunicazione magari non ci colleghiamo con ingegneri e medici ci collegheremo con profili più rilevanti per la parte della comunicazione quindi come possiamo fare a trovare persone intanto la cosa più comoda è sicuramente utilizzare i filtri di ricerca avanzati quindi se noi per esempio scriviamo nella barra di ricerca di linkedin project manager e filtriamo per persone ci usciranno tutte le persone che lavorano come project manager in tutto il mondo vogliamo cercare project manager su Milano allora filtreremo per località oppure per un'azienda che ci interessa in particolare potete anche cercare per esempio le persone le connessioni dei vostri contatti quelli perlomeno più interessanti per voi potete partecipare anche ai gruppi quindi stessa cosa invece qua di selezionare persone selezionate gruppi questa cosa dei gruppi è interessante perché nei gruppi effettivamente trovate persone che sono proprio in linea con il vostro lavoro quindi può essere molto utile collegarvi poi con questo tipo di persone poi potete anche esplorare la sezione delle persone che potresti conoscere che sul cellulare vi uscirà alla fine del vostro profilo proprio del vostro profilo linkedin e sul computer vi uscirà a destra ok cos'altro possiamo fare possiamo fare ricerca tramite le pagine aziendali non so volete cercare le persone che lavorano da google a milano e quindi magari cercate google e poi andate sulla parte di persone e qui potete scrivere per esempio project manager sempre e vi usciranno e poi filtrare per dove vivono dove hanno studiato eccetera ci sono vari filtri e vi usciranno sotto tutte le persone che a cui avete messo questo filtro un'altra cosa che potete fare un po' simile è collegarvi con alumni della vostra università quindi per esempio andiamo sul sito di Contamination University andiamo su ex studenti e uguale filtriamo e cerchiamo ok vi potete anche collegare con LinkedIn Top Voices cioè queste persone che hanno questo simbolino a fianco perché di solito sono persone che comunque sono molto attive su LinkedIn e sono ritenute persone comunque di un certo rilievo per gli argomenti di cui parlano quindi può essere sempre interessante anche per darvi spunti di cose e poi vabbè cercare i vostri colleghi che come dicevamo prima è una delle cose che si fa all'inizio praticamente un altro trucchetto che vi do è quello di cercare di avere più di 500 contatti su LinkedIn perché perché alla fine ritorniamo al punto di partenza LinkedIn è on social quindi quanto quanta più platea hai ok a cui parlare quanto più LinkedIn ti premierà se hai 100 contatti anche se scrivi un post magari lo leggono 10 persone se ne hai 700 ci saranno più possibilità e quindi alla fine la piattaforma lavora di più ok poi invece se vuoi cercare una persona ma anche un'offerta di lavoro c'è una cosa che si chiama su LinkedIn ricerca booleana che io quando l'ho scoperto un po' di anni fa mi si è aperto un mondo perché è comodissima come funziona la ricerca booleana praticamente usi dei simboli ok o delle parole corte che fanno in modo che insomma cerchi poi in base a parole chiave in base alle combinazioni delle parole più facilmente i risultati e ottieni più facilmente i risultati che stai cercando vediamo insieme quali sono questi simboli allora per esempio usiamo AND se vogliamo trovare risultati che contengono entrambe le parole chiave quindi tipo marketing AND manager restituirà i profili che contengono tutte e due le parole sia marketing che manager poi ci sta la parolina OR oppure la barra cosa serve serve ad espandere i risultati e trovare le parole che contengono almeno una delle due parole quindi per esempio se scriviamo sales or business development avremo sia i risultati tipo sales development sia business development poi abbiamo il simbolino NOT che questo serve ad escludere la parola chiave per esempio se scriviamo project manager NOT IT ci darà quei profili di project manager che però non hanno la parola IT quindi magari ti dà un engineer project manager per esempio e poi abbiamo le parentesi che servono a definire l'ordine di esecuzione quindi se cerchiamo java or python and developer avremo profili che contengono sia java developer sia python developer e poi abbiamo le virgolette se proprio volete cercare quella parola esatta quindi product manager ti darà propri profili di product manager e basta non ti uscirà project manager per esempio quindi questa cosa è super utile appunto sia per cercare persone che magari fanno quel lavoro ma anche per cercare offerte di lavoro ora abbiamo visto quindi come cercare questi profili però ora dobbiamo andare al passo successivo una volta che abbiamo trovato le persone a con cui vogliamo collegarci come facciamo a connetterci e a contattare con queste persone il mio consiglio è quello di inviare un messaggio ogni volta che vi collegate con qualcuno e come farlo personalizzate sempre le richieste di collegamento ok quindi spiegando brevemente chi siete e perché vi volete collegare trovate sempre un gancio diciamo con la persona con cui volete collegarvi siate sempre professionali comunque quindi magari va bene anche dare del tu su LinkedIn però ecco non proprio un'informalità super super alta super bassa e evitate sempre troppe richieste dirette o informali io sconsiglio fortemente di inviare il curriculum al primo contatto perché è quasi un'invasione ok quindi cercate prima di creare un contatto un rapporto con quella persona e poi in caso invierete il vostro curriculum e poi cercate di rispondere abbastanza velocemente quindi se magari accettano la vostra richiesta potete inviare un ringraziamento se non avete inviato prima il la nota oppure se vi inviano un collegamento potreste anche ringraziare poi una volta accettato oppure dirà benvenuto tra i miei collegamenti ok facciamo qualche esempio non so ciao X ciao Alice ho notato che condividiamo interessi nel settore del marketing digitale quindi vedete il gancio sarei interessata ed entusiasta di connetterci per scambiare idee e collaborare grazie dell'attenzione spero di connetterci presto oppure buongiorno Giorgio visto che lavoriamo entrambi nel settore dell'ingegneria ambientale mi piacerebbe connettervi per condividere esperienze eccetera oppure con un alumni potreste scrivere ho visto con piacere che abbiamo studiato nella stessa università e fatto per corsi simili di carriera cosa stiamo facendo in questo modo networking ok stiamo creando un primo contatto con queste persone poi ci sarà chi vi risponderà chi no e poi nel momento in cui vi rispondono potreste continuare la conversazione oppure no però comunque avete stabilito un primo contatto quindi magari se poi li dovete riscrivere tra tre mesi vedrà che già avevate parlato e qui vi do un altro trucchetto ci sono tante persone che hanno solo il segui vicino al loro nome quindi se cliccate solo sul segui a quella persona non gli arriverà neanche la notifica e non avete neanche la possibilità di inviargli una richiesta di collegamento allora il consiglio è quello di andare sul profilo di quella persona cliccare su altro a quel punto cliccate su collegati e vi uscirà questo messaggio e quindi puoi aggiungere una nota al tuo invito e fai aggiungi una nota ed invii una di queste frasetti o qualcosa di simile a questo benissimo quindi siamo arrivati alla terza parte abbiamo visto come potenziare il nostro profilo LinkedIn una volta potenziato come facciamo a creare una rete ad ampliare i nostri contatti come ci mettiamo in comunicazione con i nostri contatti e ora però dobbiamo in qualche modo far crescere questa rete cioè mantenerla attiva ok quindi ora in questa parte vedremo come farci notare lo possiamo fare in due modi principali scrivendo post su LinkedIn ok quindi creando contenuti e costruendo relazioni e ora vediamo nel dettaglio queste parti allora di cosa parlare quando scriviamo un post su LinkedIn ecco alcuni suggerimenti possiamo parlare di lavoro quindi potete condividere una vostra esperienza lavorativa episodi che vi sono successi una vostra un vostro consiglio sulla professione che fate e così via potete condividere traguardi quindi quando iniziate un nuovo lavoro quando ottenete un certificato una laurea un riconoscimento una cosa di questo tipo un premio oppure potete condividere opinioni cioè quindi sempre opinioni però su argomenti interessanti per la vostra rete non so leggete un articolo interessante su un argomento inerente al mondo lavorativo e scrivete un'opinione per esempio come facciamo a scrivere un post su LinkedIn qui diciamo che seguiamo la logica dei social network quindi LinkedIn diciamo come scrivere un copy di un post di LinkedIn è molto simile magari a come scrivere un copy di un post di Instagram ok più o meno si seguono le stesse regole la prima cosa che vi consiglio è quella di identificare il vostro obiettivo quindi di cosa volete parlare volete parlare del vostro volete esprimere opinioni cercate un po' poi non è detto che dovete sempre scrivere argomenti di quel tipo però più o meno cercate di farvi identificare dalle persone per qualcosa di cui parlate ok per esempio io seguo una persona su LinkedIn che è interessante perché parla sempre di campagne di marketing originali che ci sono in tutto il mondo quindi voi anche se parla di altre cose comunque a me questa persona mi viene in mente soprattutto per quello quindi cercate di fare questo tipo di ragionamenti dopodiché una volta che avete quindi di cosa parlare come deve essere il post anche qua ci deve essere un'apertura accattivante cioè sappiamo già che l'attenzione sui social ormai è molto bassa quindi dovete cercare di colpire proprio dalla prima frase in modo tale che poi si continui a leggere il contenuto visivo funziona molto quindi se voi scrivete un post e sotto ci mettete una foto un carosello anche i video stanno funzionando molto su LinkedIn attirate da subito catturate da subito l'attenzione quindi potete aumentare poi l'engagement siate sempre comunque cercate sempre di dire cose rilevanti e originali soprattutto per un po' la vostra rete un'altra cosa che funziona molto è aggiungere un tocco personale quindi magari parlare di una propria esperienza personale oppure comunque aggiungere una propria opinione personale e poi concludiamo con una call to action ora ricordatevi sempre che LinkedIn è un social network sì ma non è Facebook cioè è un social network professionale quindi che cosa significa che magari non parleremo del piatto di lasagna che ci siamo mangiati il giorno prima a casa della nonna ma parleremo di cose che comunque in qualche modo riguardano il mondo lavorativo ok quindi comunque argomenti sempre professionali ora facciamo un esempio immaginiamoci che vogliamo condividere un traguardo professionale che abbiamo raggiunto con successo ok quindi iniziamo con la prima fase che può essere ieri è stata una giornata molto importante per la mia carriera e qui magari uno che legge dice chissà perché e quindi aggiungiamo erano anni che desideravo farlo quindi diciamo ma cavolo deve essere una cosa importante e poi arriviamo al punto da oggi posso con orgoglio annunciare che sono diventata coach e mettete un po' il tocco personale è stato intenso mi sono dovuta mettere alla prova a ritagliarmi in tempo di qualità ma posso dire che ne balsa al 100% la pena penso sia stato uno dei traguardi professionali di cui sono più soddisfatta e concludete sempre con una domanda quindi il tuo qual è il tuo traguardo professionale di cui sei più contento volendo qua ci potresti aggiungere anche cosa avete imparato cosa vi ha lasciato questa cosa eccetera cercate sempre di usare comunque frasi brevi magari usando spazi anche quindi non fate quei testi super accorpati così perché se no proprio uno li vede dice no vabbè non ho le forze la velocità mentale per mettermi a leggere perché ora ormai sappiamo che la velocità è tutto insomma è così andiamo sempre tutti di fretta e tutti veloci ora una cosa che mi viene spesso detta ma io mi vergogno ma io non so che dire ma a me non mi piace pubblicare ma che faccio non so da dove iniziare eccetera per il non so da dove iniziare non so cosa dire direi che abbiamo visto già un po' di cose di cui potete parlare ma se proprio avete il blocco dello scrittore se proprio non ce la potete fare a pubblicare un post da punto di punto in bianco allora potreste fare qualche altra cosa potete ripubblicare i post di altri usando il tast diffondi post con le tue idee mi raccomando con le tue idee perché in questo modo potete ripubblicare il post e aggiungere voi una frase che può essere anche solo super interessante questo post di e taggatela persona condivido secondo la mia esperienza condivido anche io quello che ha detto punto se non volete sprecarvi troppo in parole però comunque già tipo con l'autore del post state creando una relazione potete condividere un articolo interessante anche lì scrivere due righe su quell'articolo potete commentare post perché questo può generare che un bot un bot risposta con qualcun altro per esempio e potete anche scrivere a persone con cui condividete lo stesso pensiero ok considerate che quanto più siete attivi quanto più il vostro nome viene visto da altre persone ok quindi anche solo il fatto di commentare comunque vedranno il vostro nome con sotto la vostra headline e quindi se interessa a qualcuno il vostro profilo magari vi cerca e vi invia la richiesta di collegamento ora ricordatevi una cosa cioè che pur essendo un social so che questa cosa la sto ripetendo un sacco oggi però voglio che proprio entra in testa comunque pur essendo un social non è necessario pubblicare tutti i giorni su LinkedIn ok ma diciamo che anche pubblicando una volta a settimana comunque la piattaforma non vi penalizza perché LinkedIn diciamo segue un po' non è come Instagram che magari non pubblichi per una settimana a quel punto quando pubblichi un post non te lo vede nessuno no diciamo che LinkedIn premia più il contenuto quindi se vede che magari subito delle persone vi mettono mi piace o vi commentano eccetera soprattutto i commenti la piattaforma vi premia io per esempio non pubblico tutti i giorni su LinkedIn cerco di pubblicare una volta a settimana più o meno ora quindi abbiamo visto come scrivere i post e ora c'era la seconda parte cioè come costruire relazioni interessanti sul LinkedIn abbiamo visto già il fatto di commentare o condividere i post delle altre persone ma poi puoi anche comunicare con la tua rete quindi per esempio anche solo che se ti commentano un post rispondi sempre a chi ti commenta e poi potresti sia scrivere in chat ad una persona con cui condividi il suo pensiero sia chiedere per esempio dei caffè virtuali o comunque una breve chiamata a persone di tuo interesse perché questo è proprio un ottimo modo per fare networking facciamo due esempi ok vi è piaciuto il post di una persona e quindi potete scriverli gentile Daniela mi è piaciuto molto il suo post sull'intelligenza artificiale ho di recente parlato anche io dell'argomento con i miei colleghi e sono usciti spunti interessanti ho visto inoltre che lavoriamo nello stesso settore e andrebbe di prenderci un caffè virtuale per parlarne in maniera più approfondita è un messaggio semplice magari poi la persona vi dirà guarda sono impegnata oppure guarda non posso però comunque è anche difficile che vi rispondino di no ad un messaggio del genere e quindi state creando network state creando relazioni oppure gentile Amedeo ho visto che parla spesso di strategie di comunicazione nel suo LinkedIn e la seguo con entusiasmo guardando il suo profilo inoltre sono rimasto sorpreso dalla sua eccellente carriera io anche lavoro in digital marketing e mi piacerebbe arrivare ai suoi livelli un giorno sarebbe disponibile per fare una veloce chiacchierata e darmi qualche consiglio per la mia carriera grazie mille questo messaggio per esempio può essere utile se appunto non so volete lavorare nel marketing e quindi magari cercate un direttore di marketing o un manager in un'area in un'azienda che vi piace di marketing e cercate di stabilire un contatto considerate che di solito alla gente piace dare consigli piace raccontare piace parlare della propria vita quindi non vi fate neanche troppi problemi ad inviare messaggi del genere perché molto probabilmente vi risponderanno e lo faranno anche volentieri non so se mi vedete bene magari accendo la luce ok quindi abbiamo visto come contattare con persone professionisti diciamo di altri settori come facciamo però a contattare con un recruiter allora una cosa che potete fare e che succede spesso è che sotto le offerte di lavoro ci sta il team di selezione quindi la persona che ha pubblicato l'offerta ok quindi quella persona le potete scrivere un messaggio facciamo un esempio gentile Yolanda sono una mettiamo che questa era un'offerta da project manager quindi sono una PMO con tre anni di esperienza in una multinazionale ho visto che segue la posizione tal detali a cui mi sono subito candidata spero di avere la possibilità di parlare in maniera più approfondita con lei sia del ruolo che della mia esperienza la ringrazio e le auguro una buona giornata ora questo messaggio va scritto una volta che vi siete candidati all'offerta ok e non c'è bisogno di mandare il vostro curriculum perché cosa stiamo facendo noi scrivendo un messaggio del genere stiamo dicendo hey la sono qui mi sono iscritto all'offerta che hai pubblicato quindi in questo modo questa persona potrebbe fare due cose o ignorare il messaggio però poi quando aprirai curriculum si ricorderà del vostro nome o leggere il messaggio e dire ah ma fammi vedere un po' che cosa dice il curriculum di questa persona e quindi comunque avete messo il pallino in testa a questa Yolanda benissimo direi che abbiamo visto quindi le tre parti principali come potenziare il curriculum come ampliare la nostra rete come mantenere attiva questa rete e ora un po' il riassunto di tutto questo è il social selling index cos'è il social selling index è uno strumento che io ho scoperto da relativamente poco in verità ma che trovo super interessante perché è progettato per misurare l'efficacia di un professionista nell'utilizzare la piattaforma per il social selling cioè per sapersi vendere ok diciamo che questo è il social selling in generale una pratica che si usa per identificare connettere e comprendere un po' diciamo i prospect con i clienti su cosa si basa il social selling index si basa su quattro indicatori che sono un po' quelli che abbiamo visto oggi cioè stabilire il tuo professional brand quindi misura quanto ben è ottimizzato il tuo profilo linkedin che è quello che abbiamo visto all'inizio quindi vede se hai completato tutto il profilo se hai utilizzato una foto professionale se hai un headline personalizzato eccetera poi find the right people è l'altro indicatore cioè valuta la tua capacità di individuare e connetterti con le persone che sono rilevanti per il tuo settore che è anche una delle cose che abbiamo visto come facciamo a collegarci con professionisti vicini a noi poi engage with insights cioè misura il tuo coinvolgimento in attività come condivisione creazione di contenuti commenti eccetera che abbiamo anche visto come lo dobbiamo fare e poi build relationship cioè valuta come mantieni le tue connessioni ok quindi messaggi condivisione partecipazione eccetera che è quest'ultima parte che abbiamo visto poi vi passo in chat il link per vedere qual è il vostro social selling index qui vi ho messo la foto del mio diciamo che il linkedin assegna un punteggio da 0 a 100 per ognuna di queste quattro componenti e se il vostro risultato è tra 0 e 25% allora è un punto di partenza ok quindi avete impostato solo praticamente il vostro profilo però non lo state più di età cioè non lo state praticamente utilizzando 25-50 lo utilizzate ma così così 50-75 hai una buona presenza però potresti comunque migliorare la strategia e 75-100 se proprio un top social seller considerate che di solito le persone sono tra i nella seconda fascia 25-50 ok come vedete io tipo sono a 54 tre settimane fa quando pubblicavo un po' più attivamente ero tipo a 58 59 quindi come vedete cambia però perché è importante o neanche perché dovreste monitorare questo dato perché può essere comodo perché comunque vi può aiutare a capire in che direzione vi state muovendo ok quindi magari cosa dovete migliorare nel mio caso magari devo migliorare il trovare le persone giuste e poi quando andate a vedere diciamo quello che vi viene scritto è interessante anche perché vi dice rispetto tipo alle altre persone del vostro settore come siete posizionati nel mio caso sono il primo 4% della classifica del settore per esempio conclusioni e poi lascio spazio alle domande allora intanto non pensate all'inkedin solo come ad una piattaforma di ricerca di lavoro ma come social penso che questa cosa è rimasta chiara poi cercate di generare sempre possibilità e quindi come lo fate collegandovi con persone interessanti diventando anche un punto di riferimento e mantenendo attiva la vostra rete e poi cercate di non essere mai in imbarazzo comunque dello scrivere sui social o essere attivi o scrivere a qualcuno perché non fa niente cioè non è una cosa brutta anzi è una cosa che fanno ancora in pochi quindi approfittatene bene Alice intanto grazie mille per tutti i contributi e tutte quante le informazioni oi di riferimento